Un ruogo della notte tra domenica e lunedì in zona Saioni, in via Nazario Sauro, pieno centro di Arezzo, una delle traverse che collegano via Vittorio Veneto a via Trasimeno. In fiamme due auto, una totalmente distrutta, l'altra invece gravemente danneggiata. Alcuni danni sono stati registrati anche al palazzo di fronte al quale si trovavano le due vetture. L'episodio è avvenuto attorno alle due del mattino. Sono stati alcuni residenti svegliati dal crepitio delle fiamme e dal fumo a dare l'allarme e chiamare i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio e bonificato l'area. Sull'episodio sta indagando la polizia.